Con orgoglio annuncio che Asset S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo la norma Uni e Niso 14.001 che apporta vantaggio all'azienda, sia di tipo ambientale come la riduzione degli impianti e quella del rischio di incidenti, ma anche risparmi in fatto di acquisti di materie prime, di bollette energetiche e di produzione di rifiuti. Lucia Capodagli, presidente della Società Capitale Pubblico, che si occupa di igiene ambientale, del servizio idrico e di illuminazione pubblica, ha comunicato oggi alla stampa l'importante certificazione rilasciata il 27 marzo scorso da Rina, una società con sede a Genova tra le più affermate a livello internazionale. L'adesione non era obbligatoria, ha sottolineato la Capodagli. Si tratta comunque di una scelta volontaria, adottata dal Consiglio di Amministrazione e ottenuta grazie al lavoro dei nostri collaboratori. Ogni anno la nostra azienda deve sottoscrivere delle fideiussioni che garantiscono il buon operato, la tutela e quindi il non impatto negativo sull'ambiente e soprattutto relativo appunto alla discarica. Per cui non dovendo o perlomeno diminuendo di una certa percentuale gli importi di queste fideiussioni, il loro costo e quindi il beneficio sarà inferiore di circa 45-65 mila euro. Una cifra che possiamo dedicare ad altri servizi per il territorio e chiaramente siamo a disposizione degli enti comunali per decidere quali servizi e quali attività. Sarà un impatto soltanto economico? No, non sarà un impatto solo economico poiché la certificazione delle procedure e delle attività volte all'impatto ambientale avrà un ottimo risultato non solo per ora ma soprattutto per il futuro, garanzia degli utenti e dei loro figli e quindi a tutela dell'ambiente e del territorio tutto. Ora inizia un percorso di mantenimento del certificato, ogni anno verranno infatti eseguiti dei controlli, il progetto invece sviluppato in sei mesi rientra in un percorso iniziato circa 14 anni fa. L'azienda ASET SPA ha iniziato un percorso di certificazione nell'anno 2001 conseguendo appunto la certificazione sullo schema qualità quindi secondo la norma ISO 9001. Poi questo schema di certificazione è stato nel corso degli anni esteso a tutti i servizi gestiti dall'azienda e nell'anno 2010 abbiamo integrato il sistema qualità con il sistema sicurezza per poi concluderlo appunto il mese scorso e quindi abbiamo chiuso un iter certificativo molto importante. Attualmente l'AZ SPA sta bonificando la rete dei sottoservizi nel centro storico di Fano dove l'inizio dei lavori partirà breve ed è già stato pubblicato il relativo bando per realizzare l'illuminazione del tratto diciclabile Fano-Fosso-Segliore.